ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi farò vedere un trapano avvitatore smart con tanto di display dietro che sembrava un giocattolo ma effettivamente mi ha sorpreso funziona bene nonostante l'aspetto delicato diciamo un po troppo da salotto effettivamente è riuscito a svolgere tante funzioni ma quello che mi è piaciuto di più è il fatto che è delicato quando serve è forciuto quando c'è bisogno di forza lo sto utilizzando per montare incisori laser stampanti 3d per lavorare su superfici delicate e effettivamente questa frizione elettronica gestibile tramite un tastino ci permette di regolare la sua forza con precisione assoluta questo è il trapano avvitatore auto della xiaomi vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione per poterlo vedere sul sito internet non mi ricordo il prezzo quindi ve lo scriverò qua aprirà in sopra pressione insieme alla schermata del sito internet dove potrete acquistarlo quindi adesso mettiamolo sul bancone vediamo tutte le sue caratteristiche tecniche ma soprattutto mettiamolo alla prova vi farò vedere quanto sia preciso per quanto riguarda la solidità della costruzione quindi tutti i suoi componenti e quanto sia preciso nell'utilizzo d'altra parte e show me sappiamo che show me produce dalle bici ai telefoni apparecchi sofisticati e anche attrezzi per i file da te quindi osserviamolo e allora questa è la scatola con cui viene venduto c'è semplicemente l'illustrazione della valigetta e il modello scritto sia in inglese che in cinese quindi auto 12 volt brushless drill kit quindi un kit di un avvitatore brushless quindi motore senza spazzole della serie auto quindi xiaomi allora questa è la valigetta ea sua volta viene coperta da questa plastica che la protegge da eventuali graffi ma noi lo terremo nel nostro laboratorio ragazzi non l'ho risparmiato non mi interessava nulla che si potesse graffiare o sporcare l'ho trattato come un vero avvitatore effettivamente ha funzionato bene quindi ho deciso di farvelo vedere allora la valigetta è un po' fighetta effettivamente una valigetta un pochettino particolare che con tutte le cose disposte in modo elegante allora troviamo sulla destra un manico di cacciavite con un alloggiamento esagonale da un quarto di pollice per poter utilizzare i vari inserti anche questo qua design particolare superficie gommata antiscivolo piacevolissimo al tatto ok effettivamente anche se dalla forma non si direbbe risulta pure ergonomico questo invece è un martello anche questo particolare sembra un semplice martellino ma questa è la parte che serve a rimuovere i chiodi facendo leva questa invece serve a metterli e si utilizza proprio in questo modo quindi abbiamo questo solco con un magnete è un altro solco si può utilizzare o in questo modo oppure in quest'altro modo questo ovviamente per i chiodi più piccoli oppure in quest'altro modo che anche più sicuro serve a conficcare il chiodo nel legno facendo esattamente in questo modo ovviamente non mi viene semplicissimo per come sono messo perché ho il braccio allungato in avanti ma per capirci basta fare così e poi continuare a colpire quindi ci evita di tenere il chiodo con le dita per dare i primi colpi e poi proseguire martellando normalmente in questo caso si fa tutto da solo e come avete visto in questo modo si rimuove sfruttiamo un foro già esistente per farvi vedere come si rimuovono i chiodi anche se sono complicati fino in fondo molto facilmente quindi anche questo ergonomico stesso materiale soft touch piccolo come martello ma per utilizzo domestico anche se ha la forma di un martello da carpentiere però nasce come un prodotto un articolo per utilizzo domestico questa è la classica chiave a rullino quindi si apre in questo modo si adatta in base alla dimensione del dato che dobbiamo svitare e possiamo utilizzarlo ovviamente da uno o dall'altro lato normalissimo gioco di tutte le chiavi a rullino anche questa sembra ben fatta la finitura comunque di tutto quello che vi farò vedere effettivamente è curatissima come devo dire obiettivamente anche la qualità nell'utilizzo adesso vedrete con l'abitatore rimarrete stupiti della sua precisione e della sua qualità quello che mi piace tantissimo è questa pinza con apertura automatica alla molla che ci permette di riaprirle in automatico e a queste forme particolari guardate non è la classica pinza con la tenaglietta i vecchi semplicemente zigrinati da questa parte abbiamo questa parte un po più arrotondata questo serve per crimpare si serve a crimpare capicorda insomma fastone eccetera questo serve a spellare i cavi quindi comodissima anche da questo punto di vista è anche questa con lo stesso materiale poi c'è un flessometro allora normalissimo flessometro da questa parte abbiamo la misura in centimetri da quest'altra parte in pollici per allungarlo basta semplicemente tirare per riavvolgerlo basterà premere questa parte ok e si riavvolge questi sono due piccoli manuali di istruzioni che spiegano il funzionamento dei vari accessori e dell'abitatore ma da questo punto dobbiamo guardare l'abitatore da vicino e allora l'abitatore è posizionato in questo alloggiamento è messa in questo modo tra queste punte di trapano e questi inserti qua c'è anche un cavo usb di tipo cibo e fratello ricaricare troviamo punte per metallo punte per legno e come vedete non troviamo punte per il muro perché questo è un trapano avitatore per trapanare il legno trapanare il metallo ma non nasce perforare il cemento quindi non hanno messo ovviamente alle punte specifiche per il muro questi sono degli inserti ovviamente è possibile utilizzare qualunque tipo di inserto di qualunque marca in dotazione troviamo oltre alle classiche punte pz ph delle punte speciali quindi per poter lavorare data la sua delicatezza anche su strumenti elettronici apparecchiature insomma componenti delicati più una punta a taglio quindi punta brugola tutto ciò che troviamo solitamente anche sulle stampanti 3d e gli incisori laser diciamo che l'80 per cento del lavoro che ha fatto finora 70 80 per cento è stato proprio su superfici delicate e mi è piaciuto tantissimo perché è andato davvero molto bene e allora guardiamo quindi l'avvitatore anche questo ovviamente stessa colorazione grigio azzurrata di tutto il resto che troviamo all'interno della valigetta mandrino autoserrante tasto di selezione per poter decidere se utilizzare la velocità bassa la velocità alta come vi ho sempre detto la velocità bassa serve per abitare la velocità alta serve per forare e loro rappresentano con queste icone quindi la vita e la punta di trapano le due velocità sulla parte bassa troviamo le informazioni tecniche quindi abbiamo una batteria agli ioni di litio ovviamente ricaricabile da 2000 mAh da 12 volt il mandrino può serrare punte con il codolo che abbiano un diametro massimo da 10 mm e la velocità alla velocità massima è di 1.400 giri invece alla velocità minima è di 370 giri al minuto e questo è l'ingresso per la ricarica tramite cavo usb di tipo c quindi guardiamo questo mandrino si chiude si apre semplicemente ruotando in questo modo mettiamo questa punta di trapano della bosch ok si può girare azionando il motore ma per poterlo serrare bisognerà farlo così manualmente girandolo un pochettino non ha dei click semplicemente quando arriva a fine corsa si ferma e allora guardiamo se gira dritta questa è una punta di buona qualità non eccellente comunque di buona qualità che è dritta ok ragazzi la mano è distante si capisce anche dall'ombra per un prospettiva sembra vicino comunque l'ho messa per fare in modo che si crei contrasto e mette a fuoco sulla punta guardate come gira dritta perfetto allora vedete questo adesivo che serve per leggere la velocità mi si è scaricata la batteria del misuratore di giri eventualmente se riesco a comprarla in tempo prima di fare il montaggio video farò delle riprese mettendo in sovraimpressione vedendo poi la velocità massima raggiunta sia alla prima che alla massima velocità questo è il tastino per poter decidere se ruotare a destra e a sinistra quindi se avvitare o svitare e questo è il tastino che ci permette di avviare la rotazione il motore brushless e quindi sentirete questo rumore che avete già sentito di fischio queste sono le prese d'aria e non vedrete scintille perché appunto il motore non avendo le spazzole non si produrranno le scintille premiamo leggermente quindi questo tasto e vediamo la modulazione della velocità quindi più lo premiamo più velocemente ruoterà ovviamente sia in senso orario che in senso anti orario la partenza è tipo soft start e anche il blocco della rotazione è morbido quindi non a questo arresto rapido che a volte in alcuni abitatori provoca pure l'apertura del mandrino in questo caso non potrà mai cadere da questa parte c'è il display allora su questo piccolo display nonostante le dimensioni troviamo tante informazioni al momento il livello di frizione selezionato quindi mettiamolo su 15 queste invece sono le tacche della batteria quanto livello di carica abbiamo ancora questa invece è la freccetta che ci indica senso di rotazione in senso anti orario oppure in senso orario questo serve ad aumentare e diminuire quindi vedete con il meno va in basso con più andiamo fino a 30 del livello massimo di coppia e allora ragazzi scusate questo taglio ma ho atteso appositamente che si spegnesse il display per farvi vedere che mentre il display è spento anche se premiamo questi tasti non accade nulla quindi non si accende per poterlo accendere è necessario che il selettore sia in posizione destra oppure in posizione sinistra dopodiché dobbiamo premere il tastino in questo caso si accenderà poco fa vi stavo dicendo arriviamo fino a 30 e newton metro dichiarati da questo abitatore sono 30 newton metro quindi abbiamo la possibilità di scegliere esattamente quanti newton metro vogliamo utilizzare a volte capita di avere abitatore che abbiano 60 newton metro distribuiti su 22 livelli di coppia 23 25 in quel caso dobbiamo andare a fare un calcolo su per giù di quanta coppia stiamo dando così in teoria dovrebbe essere un pochettino più preciso non mi metterò a misurare il newton metro però ovviamente in questo modo abbiamo un'indicazione in più quindi così possiamo regolarli mantenendolo premuto andremo avanti velocemente oppure possiamo selezionare il livello un click per volta ma abbiamo quest'altro comando allora guardate così ruota semplicemente libero in quest'altro modo ragazzi si attiva una sorta di funzione a impulsi si accende questa icona che richiama un po gli impulsi e guardate quindi non sono dei veri e propri impulsi è una funzione che finora non mi è tornata utile avevo pure dimenticato che fosse presente quindi non avendone avuto necessità non l'ho utilizzata ma oggi la proveremo quindi togliamo questa scatolina e proviamo a fare qualche foro e ad abitare qualche vita ragazzi non ho intenzione di fare test estremi questo abbiamo detto che è un evitatore che non va utilizzato in cantiere utilizzato in ambito domestico quindi facciamo comunque una prova relativamente estrema proviamo ad abitare questa vite da 18 cm che sicuramente non è piccola quindi piantiamola qua e vediamo come si comporta spero rientri tutto nell'inquadratura invece no non ci rientra ok ok proviamo quindi ad avviare e ad abitare questa vita livello di coppia 23 per correttezza mettiamolo al massimo quindi 30 newton metro vediamo quindi come va ragazzi alla faccia è andato benissimo tenete conto che non so quanti di voi e ogni quanto tempo abitate queste viti ma sono viti che si utilizzano in cantiere o in casi estremi solitamente più di 5 6 cm diciamo è difficile lavorare con quelle viti così grandi può succedere fino a 8 cm 10 cm dopo di che vuol dire che lo state facendo per lavoro comunque sia è riuscito proviamo anche a svitare ok ragazzi è andato bene per quanto riguarda la vite da 18 cm adesso vista la sua forza io però voglio vedere come si comporta quando serve delicatezza quindi voglio provare ad abitare delle viti piccole perché solitamente questo tipo di abitatori si utilizza anche su truciolato per montare mobili eccetera quindi sempre modalità avvitatura mettiamo la frizione al minimo lo mettiamo su uno e allora proviamo la sua delicatezza su questo truciolato come abbiamo detto poco fa solitamente questo tipo di abitatori si utilizzano per montare mobili è ormai il 99 per cento dei mobili sono in truciolato a meno che non compriate dei mobili legno massello però diciamo che la maggior parte appunto sono in truciolato e si rischia con degli abitatori troppo potenti di danneggiare questo materiale quindi proviamo ad abitare senza preforo e vediamo come si comporta con la frizione impostata al minimo quindi su uno vediamo in quanto tempo si ferma montando le stampanti 3d incisori laser altri materiali delicati si ferma praticamente subito quindi vediamo anche sul truciolato ok guardate meraviglioso si è fermato praticamente subito adesso proviamo ad abitare qualche altra vita e gradualmente aumentiamo però di due per volta quindi andiamo a tre e vediamo qua a fianco ok leggermente più in basso adesso lo mettiamo a 5 stanno facendo una scaletta 7 ok da 5 a 7 già c'è differenza vediamo a questo punto con 6 e quindi per quanto riguarda la delicatezza della frizione possiamo dire che funziona funziona pure molto bene ok 6 è entrato leggermente di meno rispetto a 7 ma fra 5 e 6 c'è una bella differenza per quanto riguarda il truciolato perché poi dopo che si crea diciamo la sua strada fino a quando non trova una resistenza eccessiva quindi per una vita lunga tra questa penetrazione questa effettivamente la differenza è pochissima quindi per quanto riguarda la delicatezza andiamo sul sicuro perché sappiamo di non danneggiare le superfici avete visto questo è quello che succede se utilizziamo una frizione esagerata quindi un prodotto studiato per distribuire la sua potenza nel modo corretto e la funzione a impulsi in realtà non serve per avere più forza ma è semplicemente l'effetto opposto quindi serve per tutte le persone che non hanno ancora dimestichezza con l'abitatore evitare di farsi male al polso perché effettivamente 30 newton metro si sentono e quindi riesce a dare quegli impulsi delicati ad una bassa velocità che ci permettono di fermarci anziché avere una rotazione rapida quindi rilasciare il tasto di colpo per fermarci al momento giusto in questo modo riusciamo a gestirlo molto meglio la velocità è ridotta e intermittenza quindi c'è meno rischio di una velocità elevata e continua proviamo ok in questo modo sono riuscito a fermarmi con la vite perfettamente a filo anche se non c'era svasatura però non avendo quell'energia e quella forza che abbiamo avuto poco fa il legno non si è spaccato quindi indicato effettivamente funziona per tutti i principianti come scrivono loro ma nel caso in cui la rotazione sia eccessiva effettivamente non si riesce a tenere come quelle impugnature gommate e sagomate però non nasce per fare lavori estremi io lo sto adorando perché effettivamente mi è consentito di svolgere diversi lavori in sicurezza e portati a termine senza nessun problema allora questa è una punta da 7 mm proviamo a fare un foro su questo legno ed è andato benissimo considerate che questa è una punta per metallo ed è andato comunque alla grande a questo punto il codolo ci permette di utilizzare punte fino a 10 mm ok e allora ragazzi cosa dire di questo fighetto l'avvitatore smart con display nella parte posteriore con 30 newton metro di coppia che sono tanti soprattutto per un utilizzo hobbistico a livello domestico 30 newton metro sono forse addirittura troppi ma sono facilmente gestibili con queste fraccette poi abbiamo la funzione che ci facilita nel caso in cui non siamo ancora esperti non sappiamo utilizzare bene un avvitatore allora riusciamo tranquillamente a lavorare anche con un avvitatore che come avete visto si rischia di rovinare un alta di un armadio in poco tempo invece con questa soluzione si riesce ad avvitare senza problemi motore brushless quindi che durerà tantissimo mandrino che gira dritto facilissimo da utilizzare per quanto riguarda la posizione dei tasti eccetera il display parla chiaro ci dice esattamente quanti nitrometro stiamo utilizzando e ci permette di cambiare funzione lati negativi non ha una luce mi sarebbe piaciuto se avessi avuto una luce servizio anche con spegnimento ritardato che ci permettesse di lavorare punti un pochettino angusti se utilizzato per esempio per smontare computer o comunque per montare degli armati si infila magari in angoli un pochettino stretti una lucina sicuramente avrebbe fatto comodo e la batteria mi sembra integrata non mi sembra intercambiabile e comunque smontandolo probabilmente si potrà sostituire questo non so dirvelo per il resto comunque per quanto riguarda la qualità costruttiva e le prestazioni per me promosso al cento per cento non mi resta quindi che ringraziarvi di avere visto questo video fino in fondo mi invito a cliccare sul link per vedere il prodotto sul sito del venditore cliccate anche sulla campanella accogito può esservi iscritti cliccate sul tastino mi piace se il video vi è piaciuto commentata se avete qualcosa da dire su questo prodotto sul video volete farmi qualche domanda e cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile impegni permettendo quindi a questo punto non mi rimane che darvi appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto